provenienti da altri pianeti il maestro dell'amore attraverso vanda albano 8 novembre 2007 a cura dvb unite a me si avvicinano tante creature provenienti da altri pianeti mondi e galassie perché si sentono attratte dalla luce potente che scende su di voi anche se sempre in minima parte altrimenti non potreste sopportarla quelle creature assorbendone una certa quantità per il loro cammino rendono possibile la discesa dell'energia su di voi e sono consapevoli di prendere quanto la luce cosmica vuole loro donare per rendere ognuno responsabile del proprio percorso nell'unione c'è la forza e l'amore e si raggiunge la consapevolezza di esistere per un solo scopo evolutivo spostandosi in mondi diversi per raggiungere la pace e l'armonia perfette dove tutto si svolge in completa sincronia col movimento cosmico raggiungendo le alte sfere del movimento cosmico voi sarete più consapevoli e responsabili di quanto vi offro ricevete ricordate però creature mie dilette che il mio è un dono esclusivamente d'amore non ho altri scopi perché vi offro l'amore puro voi lo raggiungerete anche se è ancora lontano da voi perché si è immesso non da molto sul vostro cammino